In ogni caso, Sindaco, l'area grecanica si aspetta un po' di più dalla sanità calabrese. Un'area grecanica che è svantaggiata non solo riguardo alla sanità, quindi sarebbe veramente paradossale a questo punto. Sarebbe l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. A questo punto, se non possiamo neanche assicurare una risposta ai bisogni sanitari, alla salute delle persone, non so che ci facciamo più qua. Questo è il punto. Ecco, al governatore, in sintesi, cosa andiamo a chiedere? L'abbiamo già chiesto comunque nell'incontro. Andiamo a chiedere equità, razionalità, trattamenti adeguati a quelli che sono i veri bisogni e quindi una presa di coscienza e di responsabilità. Anche perché adesso il caso è veramente strano. Si presenta un piano, un atto aziendale dell'area. Un rispettabile consigliere regionale ci dice, dice al direttore generale che non è farina nel suo sacco. Mi sono spiegato. Il governatore fa un suo comunicato ufficiale e dice che è pronto per l'ospedale di Melde, per l'area qui, un proprio piano speciale e vedremo. Insomma, mi pare che stiamo navigando nella confusione e nella chiusura. Questo è il mio punto. Ecco, passiamo al sindaco di San Lorenzo, uno dei paesi che sicuramente ne risentirebbe di più da questa paventata chiusura o comunque ridimensionamento dell'ospedale. perché sappiamo quali sono i disagi già per arrivare a Melde, figurarsi poi se arrivare a Reggio e magari trovare un pronto soccorso pieno o comunque un reparto senza posti. Sì, sì, ma non solo San Lorenzo, giustamente come dici tu, San Lorenzo, Roccaforte, tutti i paesi interni ne soffriranno ancora di più, però è tutta l'area grecanica. Qua non vogliamo fare mai campanile anche nell'intervento che ho fatto. Non è un discorso legato solo a San Lorenzo, è un discorso legato all'area grecanica. A tutta l'area che anche in questa occasione si vede mortificata da un atto aziendale che comunque non ci dà delle risposte che ci aspettavamo. Perché rispetto a quanto aveva detto anche il governatore Scopelliti, secondo me ancora c'è la possibilità di migliorare l'atto aziendale. La dottoressa non si è voluta sbilanciare secondo me perché ancora evidentemente deve fare le sue valutazioni. Ma io ho un pizzico di fiducia che qualche cosa cambierà. Qualche cosa cambierà perché ha accennato comunque ad un incontro con il dottore Bellinvia, quindi con l'azienda ospedaliera. Questo può far capire, almeno io l'ho inteso, come una volontà di voler chiudere eventualmente un protocollo d'intesa con l'azienda ospedaliera e quindi di attuare quella integrazione funzionale che avevamo proposto noi per l'area grecanica con l'ospedale di Riuniti e l'ospedale di Merito Portosalvo. Questo sarebbe già un piccolo passo avanti. Intanto scongiurerebbe la fine e la morte dell'ospedale di Merito. Ci sarebbe così anche la possibilità di migliorare alcuni servizi integrati anche professionalmente, funzionalmente con l'ospedale Riuniti. servirebbe da filtro per non affollare come hanno detto pure loro, per non ingolfare i servizi e i reparti all'ospedale Riuniti, così come sta avvenendo purtroppo dopo la chiusura del punto nascita nel reparto di Ostetricia. Come ho avuto modo di raccontare episodi recenti avvenuti all'ospedale Riuniti, basta andare a guardare il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Reggio Calabria. Quindi io penso che questo aspetto verrà sicuramente trattato e approfondito dalla dottoressa Squillaciotti. Le voglio dare ancora una fiducia, così come ho visto che si appuntava anche le osservazioni che abbiamo avuto modo di indicare relativi al territorio e quindi all'elencazione delle strutture territoriali che mancano in lato aziendale. Non sappiamo dove sono i polamulatori, quale altre strutture territoriali ci sono, dove sono situati e che funzioni hanno, la loro caratura, se è struttura complessa, se è struttura semplice, eccetera. Vorremmo migliorare le strutture territoriali così come lo prevede anche il decreto 18 del 2010 ma anche il decreto 54 del 2011. Si deve prevedere un'integrazione tra ospedale e territorio. Questo è un aspetto importante se vogliamo e se vogliono incidere sulla spesa perché incidere sulla spesa, ritorno a ripetere, non significa tagli. I tagli si devono fare, come dicevo, ai doppioni e agli sprechi ma non ai servizi. Bisogna incidere razionalizzando i servizi e uno dei passaggi importanti a mio avviso che ho potuto intravedere nel decreto 18 è quello di integrare l'ospedale con il territorio al fine di evitare i ricoveri impropri, di aumentare la spesa, eccetera. Ma aumentando così i servizi territoriali attraverso anche gli ambulatori infermieristici territoriali, in ogni poliambulatorio territoriale, distrettuale, senza gravio di spesa, si possono effettuare tutta una serie di prestazioni che ho avuto di fretta e furia, ho avuto modo di elencare gratuitamente presso i poliambulatori, attraverso l'ambulatorio infermieristico territoriale. Da qua partirebbe poi un percorso che verrebbe coinvolti i medici di medicina generale all'interno di questi poliambulatori, quindi arricchendo di prestazioni e di assistenza quei territori interni che oggi, nell'area grecanica in particolare, sono sempre di più penalizzati e spogliati. È un po' quello che ha detto nel suo intervento, diciamo, ha ripetuto un po' quello che ha detto nel suo intervento. Sì, è la mia idea, ne sono convinto, spero che la dottoressa ne faccia tesoro non solo delle mie osservazioni, ma soprattutto di quelle anche degli altri colleghi, sindaci, dirigenti anche ospedalieri, eccetera. Spero perché ancora io sono fiducioso che qualcosa di positivo verrà inserito nell'atto aziendale, nella salvaguardia dei diritti e dei bisogni di salute dei nostri cittadini. Ecco, passiamo al sindaco di Bova Marina, ma in questo caso il dottore. Lei nel suo brevissimo intervento, secondo noi, ha centrato il problema e comunque nello stesso tempo ha dato la soluzione che poi, se vogliamo andare a vedere, è semplice, accorpare Melito a Reggio. Certo, ma io credo che ci sia una disattenzione verso l'area grecanica che politicamente è molto gravosa. Facciamo un esempio. La Giunta regionale ha approvato il piano regionale dello sviluppo turistico sostenibile. Non c'è l'area grecanica. C'è la riviera del Gersomino con 30 comuni, ma non c'è l'area grecanica. È incredibile una cosa del genere. Un'area come questa, straordinaria, così ricca di storia, di cultura, di archeologia, di 3.000 anni di storia vissuta ad oggi, viene totalmente dimenticata in un piano così importante. E anche questa attività di demolizione, di destrutturazione, di merito, a mio parere rientra in una ottica che in qualche modo abbandona l'area grecanica. Altri eventi che stanno accadendo mi confermano questa impressione. Il messaggio del Governatore è maggiore attenzione all'area grecanica. Come è sfuggito il Sindaco Iaria? Purtroppo la domanda era più che altro rivolta a lui. Però la facciamo lo stesso Giovanni Squillaci. Siete veramente disposti a tutto pur di mantenere aperto l'ospedale di Melito? Stressando un po' il concetto del Sindaco Iaria nel suo ultimo intervento. Come Sindaco di Bova Marina io garantisco una strenua lotta a divisa di questo ospedale. E posso dire che molti miei concittadini... Parliamo di lotte civili quindi. Lotte civili ma ad otteranza. Secondo me questo presidio non va abbandonato, ad ogni costo. Grazie. Grazie.